eccoci qui allora buongiorno buongiorno professore che sono già collegati professori la ringrazio per essere qua con noi e la presento oggi abbiamo il piacere di essere il professor costalista è un professore ordinario di pubblicità generale presso università di modena messo degli studi di modena reggio emilio nonché presidente dell'isac quindi una persona che può dare veramente tanto valore a questa diretta perché ci può aiutare a capire tante cose che attualmente sentiamo nei telegiornali ma che non capiamo appieno perché ovviamente non siamo del settore io sono domenico posa sono il fondatore della medicina in uno scatto sono un medico anch'io e oggi vorremmo parlare principalmente di due tematiche la prima è quella relativa alla genesi della malattia e alle terapie la seconda invece tutto ciò che riguarda invece i vaccini quindi un possibile vaccino che potrebbe essere una delle ancore di salvezza al quale ci possiamo affidare il professor costalista inoltre ha pubblicato è stato il primo a pubblicare uno studio in questi giorni 19 marzo di appunto in cui evidenziava i risultati dell'analisi dei suoi studi di acitometria a flusso nei pazienti affetti da sars cov 2 e professore qual è stato l'obiettivo di questo studio intanto grazie di della dell'attenzione è un piacere rivederti dopo l'ultima volta che l'idea è quella di che hanno in molti voglio non solo io ovviamente di caratterizzare bene la risposta immunitaria per capire cosa fare e come comportarci nelle situazioni future in cui avremo un bacino da somministrare o da provare o da mettere in piedi il punto è che nel dell'infezione di cobit fino a qualche tempo fa qualche settimana fa non ne sapevamo quasi nulla intendo dire quella che è la risposta immunitaria a questo agente patogeno per ovvi motivi è appena uscita diciamo i primi casi sono stati riconosciuti a dicembre quindi ora che comincia a lavorare a a trovare dei dati interessanti o a cercare modificazioni nelle varie popolazioni del sistema immunitario ci vuole del tempo per cui diciamo gennaio e febbraio abbiamo vissuto in una beata ignoranza di come funzionasse la risposta immunitaria e a marzo abbiamo cominciato a vedere i primi pazienti noi e a fare gli esperimenti qui da noi a modena e in altre parti del mondo hanno già hanno avevano già fatto questo tipo di cose o almeno alcune e quindi sono uscite una serie scusa un attimo una serie di informazioni appunto su come funziona la risposta immunitaria e noi ci siamo un attimino messi in moto per confermarne e oltre lo vagne di di altre di nuove questa è un po' l'idea anche perché come capacità diciamo tecniche potenza di fuoco ce la caviamo piuttosto bene a modena quindi siamo riusciti a fare cose che sono pubblicate accettate per la pubblicazione sei giorni dopo l'inizio degli esperimenti che mi sembra abbastanza buona come velocità e il secondo articolo è stato accettato in 30 marzo quindi due giorni fa secondo la piccola sul tema di ricerca quindi diciamo che ci diamo un po da fare e infatti ha fatto soprattutto è diciamo una corsa contro il tempo perché come dicevo appunto è una malattia nuova sulla quale sanno cercare di prendere tutte le informazioni possibili per sviluppare una una terapia e ovviamente le analogie sono con le patologie più prossime al cockpit quindi le potere da sars e la mers nello specifico rispetto a queste patologie che forse conosciamo un po' di più esistono delle analogie oppure ha trovato una differenza fondamentale che distingue nelle sue analisi intendo il covid dalla sars e la mers è un po' troppo un attimo sei avanti è un po' troppo presto scusami ma ho esperimenti in corso e ho un'altra conferenza no dicevo non ne sappiamo abbastanza è troppo presto se assomiglia alla sars del 2003 più o meno insomma c'è una discrepanza forte tra la mortalità e l'infettività delle due patologie anche se in realtà non è non mi è chiarissimo quant'è il problema legato alla mortalità il numero di casi e quant'altro i dati sono sono ovviamente chiari ma non non è chiarissima la percettuale di popolazione che in realtà si è infettato non ha fatto la malattia l'ha fatto in forma lieve ha fatto una una forma non detectable o altro ancora per cui i numeri sono un po' difficili ed è difficile confrontare questo con quanto veniva per la sars che era molto più violenta come come malattia voglio dire ora vi trattiamo meglio e le trattiamo meglio abbiamo i farmaci nuovi o quant'altro però secondo me è un po' troppo presto ancora per fare dei paragoni con le patologie analoghe del passato ok nei suoi studio ho visto ho letto nell'articolo che faceva soprattutto riferimento ad un profilo al profilo citochinico che è dato dalla malattia quindi soprattutto nei pazienti gravi è specifico riferimento di interleuchina 6 voglio chiedere la cascata citochinica e quindi delle molecole dell'infiammazione possono essere responsabili di per sé del danno polmonare acuto che si radica in questi pazienti e quindi dell'insufficienza respiratoria e l'idea è quella assolutamente sì assolutamente senta davvero che i trials con i nuovi farmaci cioè con i farmaci che bloccano la interleuchina 6 in particolare i trials con gli inibitori della molecola con il tocilizumab che è un anticorpo monoclonale come dire umanizzato che riconosce esattamente le 6 e blocca l'attività di questa molecola gli anticorpi cioè la terapia questi farmaci innovativi sta veramente cambiando il corso dell'infezione ed è da dei risultati veramente buoni soprattutto quando iniziata in tempo utile voglio dire io ho visto i dati dei primi trials che non sono ancora pubblicati ma da noi come dire siamo modena è molto avanti con gli studi i nostri infettivologi cristina mussini il reparto di terapia intensiva con massimo girardi e se gli altri stanno lavorando veramente benissimo e abbiamo dei dati splendidi abbiamo perché da dai primi studi che sono più che altro evidenze sulle metodologie di trattamento del di prima linea non evidente space ma tutte quante off level non c'è una una terapia antivirale con gli antivirali attualmente conosciuti che abbia dimostrato un'efficacia diciamo inconfutabile quindi io francamente ero molto scettico come dire tu vai a usare che ne so i farmaci in vitro della protease di hiv o quanta o della terastritase inversa ma insomma sono farmaci disegnati sulla proteina del virus l'altro virus non lo so qua per cui tu disegni su una proteina una solitura complessa ci metti in mentre un farmaco e il farmaco va su quella struttura lì non va su una struttura simile di un altro virus tutto lì per cui io francamente non capivo perché venissero usati all'inizio e i risultati purtroppo non mi hanno dato ragione gli studi non sono stati buoni infatti i ritornavir con il lopinavir pensi pensava fosse anche una di quelle associazioni che potesse cambiare l'essere della malattia in realtà ora si sta dicendo non c'è nessun motivo non c'è nessun motivo per cui lo faccio vuol dire come se tu vuoi centrare a casa mia con la chiave di casa tua cioè sono chiavi simili ma non ci entrano anche perché leggevo che forse ora si sta ci si sta orientando più nel pensare agli effetti sistemici del coronavirus non intendendo semplicemente l'infezione virale ma quanto un effetto più vasculitico quindi di infiammazione sistemica e quindi a quel punto i bersagli diventano immunologici e non diventano virali eh beh sì abbastanza nel senso che una volta è molto probabile che tu quando hai sintomi cioè quando sei stato infettato e ci vogliono immagino dei giorni perché tu avvi i primi sintomi beh insomma abbiamo già finito nel senso che in quei giorni lì eh il virus ha fatto il suo lavoro e dopodiché il sistema immunitario che ci mette del suo allora tu blocchi l'infezione subito ma subito vuol dire prima che ti venga quindi vaccino per capirci o vaccini o anticorpi bloccanti però non saprei da dare come quando e perché perché sono mai sintomi che non puoi se nessuno ha la bacchetta magica o la sfera magica voglio dire quindi non puoi trattare una persona perché boh perché a caso quindi o blocchi prima il virus e gli impedisci di funzionare con un vaccino oppure quando hai sintomi il virus ha già funzionato per cui non lo so se un antivirale fatto su misura possa essere utile o meno probabilmente lo è però di nuovo servono dei dati servono dei numeri servono gli studi non si può parlare a vanver all'altro un aspetto vasculitico assolutamente sì tanto è vero che l'impressione che stiamo passando da una polmonia interessenziale con un importante edema interessenziale al livello degli alleoli polmonari ha un aspetto più ehm da cui patogenesi vede l'associazione di trombosi e quant'altro perché eh questo è la componente vascolare è importante l'endotelite può essere un bersaglio interessante da raggiungere e eventualmente bloccare e cambierebbe poi eh del tutto alla prospettiva terapeutica perché aumenterebbe le armi a disposizione certo per questi pazienti nel bene la gente sa già usare parina è per capirci certo esattamente la mia trombotica già in soprattutto nei pazienti avanzati cioè in stadio avanzato nelle terapie intensive cioè quando ormai a livello a livello immunologico esistono perché purtroppo in questo periodo si sta parlando anche di sostanze che possono essere o meno integrate per proteggere da questo tipo di infezioni o quantomeno dalle complicanze severe esiste quindi o non esiste un fattore immunologico protettivo endogeno o esogeno che può essere integrato affinché si possano prevenire i danni di questa protettiva sono tutte cose campate in aria no è un fattore esogeno che protegge molto tu sei in puglia se non ricordo male no è il nero di troia è un ottimo fattore protettivo o il primitivo sono meravigliosi tutti gli supplementi che vengono dati alimentari zinco proteine l'ira di quello che ti pare integratori vitamine o quant'altro sì carini simpatici però fate un bicchiere di vino a me è lo stesso io voglio dire in fuori umani è la nostra terapia ma fattori di questo genere non ce ne sono a livello di tutto in questi giorni qua le vitamine in l'ira di dio male non fanno per carità io al mattino mi faccio due la spremuta d'arancia e mi illudo che mi difenda da qualunque cosa so benissimo che non è vero però mi piace pensare voglio dire magari sono più contento e quindi mi ammalo meno non so però fattori esogeni fattori endogeni vale tutto quello che vale per il sistema immunitario cioè qualunque infezione è combattuta dal sistema immunitario quindi se il tuo sistema immunitario funziona bene te rispondi meglio è banale voglio dire però c'è una domanda interessante che la metto ora in sovraimpressione è di antonio palomba che ci chiede come agirebbe invece l'idrossiclorochina perché anche una di quelle molecole che in questi giorni è un antifiammatorio che oltre a rompere un po le scatole al trasmodio della malaria funziona perché blocca i recettori tipo tol alcuni recettori tol sulla membrana delle cellule dell'immunità innata e impedisce la diciamo il loro funzionamento è una acidifica cioè modifica voglio dire ha dei sosomi quindi interviene in cicli vitali piuttosto importanti delle cellule ed è usato come blando antifiammatorio e ha delle funzioni ottime da questo punto di vista quindi viene utilizzato c'è sì c'è anche più perché non è che quello che ha detto in francia che raccomanda la clorochina idrossiclorochina a tutti come prevenzione o insomma anche no come dire è chiaro e prima di passare all'aspetto dei vaccini vorrei fare l'ultima domanda cioè noi sappiamo che ad oggi la malattia si manifesta nei bambini in maniera blanda un secondo antonella hai bisogno aspettiamo 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 lunedì se è possibile stiamo facendo una serie di studi e abbiamo i previevi che arrivano in ogni seconda e bisogna organizzare tutto ciò calcolando che quando prendiamo un previevo c'hai da lavorare per 5 6 ore quindi adesso sono le cime tre e mezza tra i 6 9 alle 10 va bene finiamo chiuso questo detto ciò per quanto concerne i bambini noi sappiamo che la malattia si manifesta prevalentemente in forma faccio sintomatica l'immaturità del sistema immunitario appunto nei bambini potrebbe in parte spiegare questa manifestazione oppure c'è dell'altro che non conosciamo allora immaturità non userei questo termine direi è un termine usato per l'amore del cielo però più che immaturità è diversità è diverso cioè i bambini hanno un sistema immunitario che risponde la dio tu pensa che nei primi minuti della tua vita e anch'io senza barba e ora senza cappelli abbiamo ci siamo beccati che ne so 100 milioni di minterabini in qualche ora cioè uscendo dalla pancia della mamma dove eravamo tutti belli sterili nelle prime ore siamo stati colonizzati da milioni e milioni di microbi alcuni patogeni altri no di solito no e il sistema immunitario ha cominciato a lavorare alla grande da subito dopo di che le vaccinazioni vengono fatte dopo qualche mese perché nel frattempo sei protetto dalla mamma dagli anticorpi una tecnica eccetera eccetera e non puoi sottopogli il sistema immunitario a uno stress tale da attivare troppo una risposta di tipo th2 cioè una risposta che fa produrre citochine di un certo tipo che non sono quelle che invece vediamo ora nei pazienti con covid che in altre parole il sistema immunitario dei bambini risponde in modo diverso producendo molecole diverse che non sono quelle fortemente infiammatorie che abbiamo negli adulti tra l'altro un fenomeno analogo sembra dico sembra non ci sono dati c'è tutto un un sembra che che accade lo stesso delle donne incinte le donne gravide hanno una risposta di tipo di h2 perché devono necessariamente essere un po immunosuppresse immunologica maggiore c'è in pancia a metà del patrimonio genetico che ha in pancia come dico sempre i miei studenti a pretiene al papà o al lattai o al postino insomma qualcuno di sesso maschile per cui non è della donna è di essere vivente umano di sesso diverso per cui hai comunque delle molecole diverse e tu non puoi reagire contro contro un bambino che ha in pancia quindi il tuo la tua risposta immunitaria è virata diciamo verso un tipo di 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 produzione di molecole diverse allora è probabile ripeto non ci sono dati quindi possiamo parlando di illazioni teorie come dire se se morigno torna all'inter vinciamo lo scudetto ammesso che mai si torna a giocare a calcio è è probabile che ci sia una risposta di tipo non infiammatorio come quella degli adulti o negli anziani ancora peggio e le persone siano protette dalla malattia grave poi tra l'altro anche una cosa che vuole capire che sto cercando di convincere i miei amici pneumologi a guardare un'occhiata che chi ha allergie e asma bronchiale quanti di questi fanno forme gravi apparentemente pochi apparentemente perché sono hanno una risposta diretta in altro modo questo mi rincuora allora sei allergico o sei a poco ma poi sei un ragazzino a voglia siamo noi vecchi rimambiti che allora dire allora invece ora passerei c'è una domanda anche quello dire è giusto parlarne e dicono è giusto dare una copertura antibiotica a tutti è consigliabile solo a chi sviluppa sovrainfezioni batteriche io penso che la risposta sia scontata però no certamente non hanno ma senso usare i biotici se non hai se non c'è motivo perché colghi il rischio tra l'altro di far sviluppare delle resistenze ad antibiotici che poi fai fatica a capire via quindi va usato solo nei casi di dei casi serve è necessario sai è una politica presenziale la diagnosi è abbastanza facile certo certo ora per quanto riguarda i vaccini invece noi sappiamo dall'esperienza della sars e della mers che al termine dell'epidemia ancora un vaccino non era arrivato per le patologie che al tempo girava ora per questo virus quindi per il sars cov 2 che tipo di tempistiche ci aspettiamo per la realizzazione di un vaccino ma il problema non è tanto fare un vaccino il problema è vedere che funzioni e mi spiego le tecnologie di retro vaccinologi che abbiamo oggi tu prendi la sequenza del virus vai a vedere come sono fatte le proteine guardi la gamma messaggero lo sequenti dopodiché ti conservisci nel laboratorio una proteina che sia immunogena cioè l'attacchi da qualche parte la rendi immunogena e questa proteina ti protege questo vaccino ti fa fare tanti corpi in via di massima tempi tecnici un mese ma neanche da quando hai tirato fuori la sequenza e la sequenza è uscita a fine dicembre quindi la fattibilità è veramente breve cioè non ci vuole molto il problema è un altro è che deve funzionare cioè è che deve essere capace di indurre una risposta immunitaria protettiva ti faccio l'esempio dell'HIV l'HIV che è un argomento di cui mi sono occupato direi per un numero notevole di anni e di cui mi occupo ancora non ci sono vaccini funzionanti perché perché la risposta immunitaria è molto buona cioè un paziente sia positivo si dice che sia positivo perché ha gli anticorpi contro il virus non per altri motivi e gli anticorpi però non lo rallentano l'infezione e non e neanche la periscono detto tra noi perché al virus non ne può fregarli meno muta cambia forma eccetera eccetera ora qua il problema nella punto nell'epidemia attuale del covid è producanti i corpi che blocchino l'ingresso del virus nelle cellule ovvero gli anticorpi neutralizzanti o quelli a largo spettolo per produrli insomma bisogna provarci bisogna intanto avere la sostanza pronta e qui ci sono che io sappia almeno una ventina di aziende che ci stanno lavorando o che hanno già preparato qualcosa poi l'ha provato l'ha provato l'ha provato e facendo la sperimentazione animale che è con tutte le difficoltà che ci sono persone antiscientifiche che vengono a creare problemi immensi a chi lavora e insomma è un sostanzialmente di un'ignoranza leggendaria il dopo la sperimentazione animale devi passare al duomo e devi fare le prove di non la fase 1 quindi diciamo non tossicità poi tolleranza poi funzionalità eccetera eccetera e ci vogliono dei mesi quindi chi ti dà dei tempi brevi insomma io sarei contempo che ci fosse per l'inverno cioè arrivare a dopo estate certo anche perché se ricordo bene diciamo una tra le tante molecole che furono proposte per la sars e per la mers alcune addirittura esacerbavano il danno polmonare allora dovute alla sars e alla mers quindi il rischio sarebbe di mettere sul mercato soprattutto su larga scala delle molecole che invece di far bene fanno peggio e quindi siamo punti a capo quindi la sars è uscita 17 anni fa e le conoscenze che avevamo 17 anni fa sono molto diverse da quelle attuali la mers è un fenomeno e la sars è poi durata poco è perché diciamo dal 10 novembre dicembre 2002 sono arrivati a giugno nel 2003 o giugno di lì e ha colpito l'asia il vietnam un po la cina la cina è arrivata poco da noi perché sarà bloccata riconosciuta subito grazie a carlo urbani medico martigiano che è morto appunto durante l'epidemia in vietnam e lo ricordiamo sempre tutti noi voglio dire e il mentre la mers è un fatto abbastanza localizzato dal punto di vista geografico e gli studi fatti non sono moltissimi che io sappia e poi la mers arriva in euro in europa sono pochi casi a londra sostanzialmente da di persone che avevano a che fare con il mondo arabo e l'hanno presa qualche come dire cammeliere o autista di domedario e non so come si dica domedariere forse e l'ha portata e sarà sopportata in internet quindi ci sono veramente pochissimi dati anche su quello sulla su covid c'è un'esplosione di articoli ora cioè nel giro di poco tempo è un fenomeno che sta colpando sicuramente a livello globale con un'intensità che è sai più di cambiare il mondo così non so cosa doveva succedere sai sì ma diciamo la cosa che colpisce il fatto che comunque oggi sul web ma anche dai politici in genere vengano richieste di farmaci nuovi che si debbano però immettere sul mercato con tempi ultra bevi come se avere una molecola significasse che funzioni significasse che comunque è perenne invece non è così perché può avere degli effetti collaterali e anche lo stesso vaccino seppur funzionasse non sapremmo sin da subito quanto ci copre questo vaccino per quanto tempo per quanto tempo appunto abbiamo memoria immunologica della molecola iniettata certo tutto sacrosanto hai fatto un ottimo esame di immunologia a pari si vede grazie no quello che voglio dire hai perfettamente ragione non c'è dubbio noi abbiamo poi il problema dei dei farmaci che fanno gli altri no c'è il farmaco del vicino è sempre più bello come si dice c'è in tizi che vanno in giappone fanno due video e improvvisamente il governatore nel veneto vuole trovare questa roba sui siamo è un film cioè siamo in italia e l'italia non c'è niente di paragonabile una roba del genere le racconti all'estero su me con tutti a ridere cioè le raccontavi ora un pochettino difficile dicono gli utenti tutte le facoltà dovrebbero avere questo tipo di questi tipi di professori troppo buono sì è vero però hai ragione allora ci chiedono anche i pazienti che fanno terapia immunosoppressiva come reagiscono all'infezione sono più suscettibili ma potrebbero anch'essi essere protetti da una malattia grave allora due risposte non abbiamo dati a sufficienza perché mancano i numeri secondo la risposta secondo me sì sono messi che io ho visto un caso a parlare di un paziente non è ridicolo però quello che mi hanno raccontato gli amici chirurghi dei trappianti è di un signore che ha fatto un secondo trapianto di fegato cioè una una coliditia insomma una serie di casini un'infezione le vie biliari e quant'altro aveva la febbre e aveva pure il covid hanno curato l'infezione le vie biliari quello sa compatibilmente con il fatto di avere un trapianto numero due in arrivo sa benissimo sfebrato perfettamente in forma dal punto di vista a polmonare niente e quindi secondo me boh direi più sì che no dovessi messi dei soldi ovviamente parliamo è analizzare questi dati ovviamente nel tempo per capire se ah sai deve fare una cosa molto semplice a prendere tutti quelli a fare un trapianto di fegato tutti a vedere quanti quanti si sono fatti in covid e come vanno e come sono andati tutto lì certo certo l'ultima domanda poi io la lascerei insomma ai suoi impegni perché siamo online da 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 mezz'ora e non voglio impegnarla ancora eh eh chiedono a proposito di anticorpi come si fa ad essere certi da ore che chi li sviluppa non possa comunque riprendere le infezioni a trasmettere visto che pare le gente ottima domanda ottima domanda la risposta non c'è non c'è perché non sappiamo che tipo di anticorpi siano cioè se siano i corpi bloccanti e in quel caso lì tu intercetti il virus prima che entri o se siano i corpi diretti eh versus rottura del virus che magari sono liberati a sai di rottura del virus o presentati in qualche modo o quant'altro e eh non proteggano dall'infezione quello che sappiamo è che ci sono i test in questo momento che hanno una sensibilità mica tanto alta cioè non beccano tutti c'è una percentuale importante di persone che sfuggono io ho visto i risultati che hanno fatto qua in hanno usato un immunocromatografia se non ricordo male tre metodi diversi tre kit diversi uno era positivo per un paziente e uno negativo per l'altro intermedio cioè come se la giochiamo evidentemente abbiamo le kit cambiando metodo ora stanno usando la cheminuminescenza non so cosa accada non ho parlato ancora con i miei amici in virologia e però spero vada un po meglio primo problema secondo problema devi avere anticorpi che funzionino devono essere bloccanti se non sono bloccanti adesso non si mettono tra il virus e il recettore non si mettono in mezzo e non ne senti fuori va bene professore io la ringrazio di questa mezz'ora trascorsa con noi ringrazio ringrazio tutti gli utenti che ci hanno seguito grazie ci vediamo alla prossima puntata a tutti